Ok, allora adesso il traffico dietro non ce n'è, io mi metto in fianco a te, ti sto dietro, quindi sono più o meno nel tuo angolo cieco se tu provi a mettere la freccia per fare il cambio di corsia cosa ti dice la macchina? Sì, ecco adesso io provo a invadere il tuo spazio, quindi ti metti in una posizione dove non potresti passare che dice? Non ti lascia fare la manovra, adesso sì Ok, un po' vicina devo dire, il limite di distanza di sicurezza è un po' risicato Quindi ha deciso, scusa? Sì? 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 Ok, allora adesso, ok, prova a cambiare corsia Vengo un po' più avanti Ok, sono più o meno a ore 7 rispetto a te adesso Ti vedo appena l'inquadratura della telecamera Mette la freccia Si taglia un po' la strada, devo dire Sì, ecco, prova a rientrare, sì, io mi metto un po' più avanti ancora Quindi dove ci sarebbe il rischio di una collisione Perché adesso tu mi hai tagliato la strada e mi va bene, se mai ti suono Se sono un guidatore molesto Ecco, per esempio, io adesso sono fisicamente nel tuo spazio Il mio muso è dietro alla tua coda Se tu provi a cambiare corsia Ok Non ti lascia, perfetto Adesso io ti sorpasso Vediamo un po' La freccia rimane attiva La tua freccia rimane attiva Ok Ok, passami pure Tutto questo lo stiamo facendo a intorno ai 90 km l'ora sotto i limiti di velocità locali Con poco traffico Si Si